è una norma che mette lo Stato allo stesso livello degli esattori del pizzo di mafia. A dirlo è il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Già, ma cos'è questa vicenda continua della lobby delle slot machine? Se ne parla poco, ma soprattutto con imbarazzo di quanto lo Stato effettivamente incassi dal gioco d'azzardo, anche se squilano in continuazione i campanelli delle slot machine installate nei locali di tutta Italia. Su quelle entrate dirette o meno si è giocata anche una partita importante nell'elaborazione della legge di stabilità perché sui milioni che lo Stato avrebbe dovuto incassare come multe dovute dalle società concessionarie era legata la copertura dell'abolizione dell'Imu. La storia parte nel 2008 quando la procura della Corte dei Conti fissa in 98 miliardi di euro il risarcimento che 10 concessionarie dovevano versare per non aver collegato le macchinette ai sistemi di rilevazione informatica del Ministero che avrebbero dovuto così calcolare le tasse dovute. Una cifra che se versata avrebbe sistemato non poco del bilancio statale ma venne poi ridimensionata in 2 miliardi e mezzo. Le società hanno presentato ricorso e per la necessità di fare cassa, per la legge pochi maledetti e subito, il governo Letta decise per una sorta di sanatoria, 618 milioni di euro da versare entro ottobre. E' andata a finire così. La più grande delle concessionarie, la B+, che gestisce circa il 30% del parcolotter italiano, non ha versato un euro e decise a proseguire nella causa contro lo Stato. In sé hanno aderito al condono e sono stati versati 349 milioni di euro, più una quindicina di interessi legali. Alcune delle concessionarie non possono pagare perché soffrono, come lo Stato del resto, di un calo stimato intorno al 7-8% delle giocate nel 2013, con 2 miliardi in meno di incassi totali. E mentre i sindaci firmavano accordi provinciali e regionali per limitare e regolamentare la presenza delle sale giochi nelle città, mentre si organizzavano manifestazioni a favore dei locali virtuosi che rinunciavano agli incassi delle macchinette, a Roma si lavorava per dare il via libera a nuove licenze. 7 mila quelle potenziali, 3 mila 900 quelle effettivamente richieste dalle concessionarie che dovranno versare 14 mila euro a videolotteri per un totale di entrate nelle case dello Stato di 55 milioni di euro circa. E su tutto questo giro di multe, prima scontate poi sanate, di nuove licenze, ecco il dito puntato dal Movimento 5 Stelle Enrico Letta e alla sua fondazione Vedrò, che tra gli sponsor del 2010 elenca l'Ottomatica e la Sisal, due multinazionali del gioco d'azzardo. 20 mila euro la cifra versata dalla Sisal dal 2010, preseduta da Fantozzi, ex ministro del governo Prodi. A rispondere lo staff del Premier, Enrico Letta, non ha mai ricevuto finanziamenti personali o da veicolare al partito da parte di lobby delle quali ha sempre auspicato una regolamentazione all'insegna della trasparenza.